Sono forti e coraggiose e hanno voglia di ritrovare la loro indipendenza e il loro equilibrio. Sono le donne ucraine, arrivate in Italia con la guerra negli occhi e nel cuore, e seppur spaventate da tutto quello che stanno vivendo, non vogliono perdere la loro autonomia, la loro dignità. Sono già una cinquantina le profughe che sono venute da noi per chiedere di poter partecipare a delle attività e a dei corsi, che permettano loro di imparare la lingua italiana e un lavoro, dice Roxana Hernandez, presidente della cooperativa ABC Assistenza di Busto Arsizio. E proprio per loro, grazie al supporto di Domina Italia, l'associazione che si occupa di lavoro domestico, è in programma un corso. Quello che pensiamo di fare è un corso specializzato per persone che provengono dall'Ucraina, in cui si danno le competenze per svolgere questo tipo di professione. E all'inizio del corso ci sarà anche un modulo in italiano. È fondamentale dare a queste persone in questo momento di difficoltà un supporto psicologico, ma anche una prospettiva di vita per il futuro. E la competenza come assistente familiare è una competenza che può essere spesa non solo in Italia, ma anche in un altro paese estero dell'Europa, perché non sappiamo i profughi, che poi si torneranno quando nel paese di origine o si sposteranno verso altri stati dell'Europa. C'è grande richiesta, c'è tanta voglia di iniziare anche una vita nuova. Attualmente pensiamo che è passato solo tre settimane, siamo all'incirca 50 donne che mi chiedono quando anche per noi fate qualcosa, non solo l'accoglienza, ma una prospettiva di lavoro. C'è la possibilità di lavorare. E la formazione è sempre tra le priorità di ABC Assistenza. A dimostrarlo, la giornata di esami è organizzata a Busto Arsizio, volta a testare le capacità e le conoscenze delle aspiranti badanti e colf. Adesso le persone stanno sostenendo l'esame per avere la certificazione di qualificazione come colf generico polifunzionale, come badante, come babysitter. Finalmente la formazione, la certificazione degli assistenti familiari sarà uguale dalla Sicilia alla Val d'Aosta. È un valore importantissimo per il settore. È un valore importantissimo per il settore.